Vediamo adesso queste due definizioni di capacità termica di un corpo e di calore specifico. Iniziamo dalla prima, indicata con C. La capacità termica viene vista come la quantità di calore che un corpo deve assorbire per aumentare la sua temperatura di un grado e viene normalmente indicata come ΔQ fratto ΔT. Quindi, mentre la capacità termica, scusate, il calore specifico che viene indicato con C minuscolo, è la quantità di calore che una unità di sostanza, quindi per esempio un grammo, deve assorbire per innalzare la sua temperatura di un grado centigre. E viene data come da quest'altra relazione, ΔQ fratto M per ΔT. Va bene? Quindi proprio perché deve essere quella unitaria. Beh, se andiamo a moltiplicare qui, abbiamo M per C uguale, quindi questo chiaramente lo posso togliere da qui, uguale ΔQ su ΔT. Andando a eguagliare le due relazioni, abbiamo che quindi la capacità termica è data da la massa di quel corpo per il suo calore specifico, e questo è più che coerente perché il calore specifico è inteso come unità di calore, no? Per l'unità di massa. Ci sono due tipi di rappresentazioni per il calore specifico, Cp e Cv, che sono rispettivamente il calore specifico a pressione costante e il calore specifico a volume costante. C'è da dire che per i solidi e per i liquidi il calore specifico a pressione e volume costante sono uguali, invece per gli aeriformi e per i gas no, e vale la relazione di Maier che dice che Cp meno Cv è uguale sempre ad una costante indicata con R. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.